Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale, siamo su Wulong Fallen Dynasty ed oggi andiamo a vedere questa build fiammeggiante tutta centrata sul fuoco che utilizzeremo sin dal principio e porteremo verso la fine del gioco ottimizzandola sempre al meglio. Io ora sono al livello circa 55 ma già dal 50 diventa veramente funzionale, veramente potente perché andrà ad infliggere ustione ai nostri nemici in una maniera veloce e con un sacco di danni andremo a vedere le armi, le armature, le statistiche che raggiungeremo con il nostro personaggio e gli incantesimi che dobbiamo utilizzare. Prima di farlo come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere tutti i prossimi contenuti che arriveranno su Wulong perché sto anche preparando un ulteriore build tutta incentrata sul legno che metterò prossimamente quindi se volete vederla iscrivetevi e lasciate un bel pollicione se vi va, se il video vi gusta. Ora passiamo a vedere quali sono le armi e le armature da utilizzare per questa build. Partiamo dunque dalle armi che abbiamo equipaggiato la prima è la doppia lavarda al canto del gallo, questa l'ho equipaggiata perché oltre a garantirci come effetto speciale il richiamo delle conitere e il tornado improvviso che sono due arti marziali molto veloci e combinate con l'incantesimo che vedremo dopo ci garantiscono un ottimo accumulo sui nemici di ustione che sarà la base di tutta la build perché andremo a infliggere l'effetto di stato ustione sui nostri nemici per fargli più danno possibile. Quindi avendo questo tipo di arti marziali con colpi multipli lo infligeremo molto più velocemente. L'arma ha come modifiche un aumento di spirito per deviazione di un 4,1%, danni spirito d'arti marziali 3,4%, un potere d'attacco fiamma più 17% e l'amplificazione danni sul nemico per arti marziali. Quindi andremo a far più danno ai nemici utilizzando le arti marziali. Se non avete ancora trovato questo tipo di alabarda potete benissimo utilizzare le altre doppie alabarde che possono essere la doppia alabarda zana di tigre e la doppia alabarda del marchese. La cosa importante è che abbiano come effetto speciale tornado improvviso che è proprio l'arte marziale che utilizzeremo per la maggiore quindi assicuratevi di averla tra gli effetti speciali. La seconda arma è la lancia del serpente immortale che riceveremo quando diventeremo fratelli di sangue di Zhangpei, uno dei rinforti che possiamo chiamare durante le missioni. Oltre al suo set armatura ci darà questa lancia. Questa lancia scala in A proprio come le doppie alabarde canto del gallo una volta che l'avremo portata a più 4 e anche essa ha un effetto speciale molto interessante che si chiama colpo del corno che effettuerà colpi multipli e spingerà il nostro nemico in avanti. Anche qui andrà ad incastrarsi perfettamente con l'incantesimo che vedremo dopo per andare a infliggere ustione ai nemici. Non a caso abbiamo messo come modifiche danni ai nemici con ustione più 3,2% durata incantesimo più 5,3% ovvero l'effetto che andremo ad infliggere al nemico durerà di più e un potere d'attacco fiamma più 19. Passando invece alle armature non sarà importante quali indosseremo bensì sarà importante quali saranno le caratteristiche che avranno e ovvero gli effetti speciali quelli che possiamo andare a modificare tramite l'utilizzo dell'incastonatura dal favro. Per questo tipo di build andremo ad aggiungere come caratteristica generica l'accumulo di ustione sui nemici. Più volte lo mettiamo più volte a disposizione c'è meglio è nel senso che se lo mettiamo 3-4 volte beng benga dato che aumenterà la velocità con cui l'effetto di stato ustione produrrà danno sui nemici. Di pari passo andiamo ad inserire anche i danni ai nemici con ustione. Questa è una modifica che per quanto riguarda l'attacco se ancora non l'avete non preoccupatevi che la dropperete presto oppure potete comunque inserire altri tipi di modifiche che vanno a garantire dei danni per esempio ai nemici che hanno effetti negativi e così via. Altra modifica generica che possiamo inserire è anche l'accumulo del potere fiamma che ci permetterà di aumentare la nostra potenza della virtù fuoco quindi tutto incentrato sull'utilizzo dell'ustione e per quanto riguarda la difesa il miglioramento del personaggio andremo a inserire un minor consumo di arti marziali piuttosto del cast delle stregonerie o più specifico ancora il cast delle stregonerie che utilizzano il fuoco per andare a diminuire la quantità di spirito che utilizziamo quando usiamo arti marziali piuttosto che incantesimi quindi non è importante quale sia il pezzo di armatura che scegliete ma controllate che abbia più slot possibili per la modifica degli effetti speciali e che magari ne abbia già qualcuno che sia funzionale per la nostra build di fuoco. Per quanto riguarda gli accessori invece ho messo il nodo decorativo che ho scelto per gli effetti speciali che ha ovvero l'ottenimento di forza vitale, l'aumento di spirito, danni fulbine che qui non posso cambiare però per ora è il meglio che ho e potere d'attacco fiamma. Il secondo accessorio invece è il dadi liugo di bronzo che ho messo principalmente per due effetti speciali che ci sono ovvero l'accumulo effetto di stato nemico più 5,2% e durata incantesimo 4,7% in più. Quindi andremo a far durare di più l'incantesimo cioè l'effetto di ostione e lo accumuleremo più velocemente grazie a queste due statistiche. Siamo giunti ora alla parte succosa della build, ovvero gli incantesimi. Ne abbiamo quattro a disposizione, tre saranno di fuoco e uno di legno. Partiamo con la palla di fuoco esplosiva che potremo sbloccare dopo aver investito 15 punti nella virtù fuoco. La potremo castare nelle missioni dopo aver raggiunto il livello 12 morale, perciò in una fase abbastanza avanzata della missione, ha un grande consumo di spirito ma ci garantisce un ottimo incremento dell'effetto di stato oltre a fare anche un buon danno. Il secondo incantesimo è l'ondata di fuoco coccente, ovvero faremo scaturire da terra delle fiamme una lingua di fuoco che resterà sul pavimento per un buon periodo di tempo, facendo così aumentare l'effetto di stato ustione ai nemici che ci correranno incontro o semplicemente che resteranno all'interno delle fiamme. Questo ci garantirà quasi sempre che l'ustione vada a buon fine fin da subito permettendoci di far danno ai nostri nemici nel tempo. La sbloccheremo a livello 10 della virtù del fuoco e la potremo castare quasi da subito dato che il livello morale che ci serve è di livello 3. Non costa nemmeno tantissimo spirito. Quella a cui invece facevo riferimento prima quando stavamo parlando delle armi è arma fiamma, ovvero potremo ricoprire le nostre armi con delle fiamme. In questo modo, dopo aver castato l'incantesimo, potremo utilizzare le arti marziali e grazie agli effetti speciali proprio delle alabarde e della lancia riusciremo ad infliggere un ottimo quantitativo di effetto di stato sui nostri nemici. Questo incantesimo lo sbloccheremo a livello 12 dell'albero della virtù del fuoco e lo potremo castare dal livello 7 di morale. E anche questo, proprio come l'ondata di fuoco concente, non costa tantissimo impatto di spirito. L'ultimo incantesimo che riguarda il legno è pervore di spirito. Un incantesimo che ci aiuterà a recuperare lo spirito dopo che lo abbiamo utilizzato proprio con le arti marziali oppure gli incantesimi. Infatti poi andremo a vedere come e quando utilizzarlo per far sì che recuperando lo spirito possiamo di nuovo utilizzare gli incantesimi e le arti marziali. Nel caso non vi piaccia uno di questi tre incantesimi di fuoco, potete sostituirlo con inferno inghiottente che è un altro ottimo modo per andare a infliggere gli effetti di stato, però in questo caso dovremo avere investito almeno 25 punti nella virtù del fuoco e si sbloccherà a livello 7 di morale. Anche questo è un ottimo incantesimo dato che non costa moltissimo spirito, quindi potremo castarlo più volte di seguito. Vediamo ora l'ultima cosa che riguarda l'equipaggiamento del nostro personaggio su preparativi battaglia che possiamo andare a selezionare tramite la bandiera, ovvero la bestia divina. Qui io la maggior parte delle volte uso Queen Long perché è molto utile se soprattutto abbiamo degli alleati e vi assicuro che vi darà una grande mano soprattutto contro i boss, vedrete che potrà salvarvi da situazioni molto spigolose. Se invece volete puntare tutto sull'aggressività proprio come è questo tipo di build potete utilizzare Zuke che vi darà una riduzione della quantità di spirito quando castiamo gli incantesimi di fuoco, una quantità di spirito ottenuta attaccando un nemico e riduce i danni spirito quando subiamo gli attacchi, quindi adatta proprio alla nostra build di fuoco. Un'altra ottima alternativa potrebbe essere anche Bei Yu, la tigre, perché anche essa ci dà due effetti che sono molto interessanti, ovvero l'aumento dei danni spirito inflitti al nemico, ma soprattutto per la build come la nostra che aumenta la durata degli effetti negativi sui nemici. Ora vediamo l'ultima cosa, ovvero come distribuire le virtù al nostro personaggio. Il mio consiglio, almeno all'inizio, è quello di potenziare la virtù del fuoco per aumentare l'attacco delle armi da mischia e abbassare il consumo dello spirito quando andiamo ad utilizzare le arti marziali e poi mano a mano salire anche con la virtù del legno, perché questa oltre a garantirci un aumento sostanziale rispetto a tutte le altre virtù dei punti vita se la potenziamo, ci andrà anche a dare un'ottima difesa spirito e un aumento della durata degli incantesimi. Quindi all'incirca a livello 50 io avevo una trentina di punti sullo spirito, 18 mi pare sulla virtù del legno e qualche punto sulla virtù della terra per andare ad aumentare il peso dell'equipaggiamento che può portare il nostro personaggio, sempre per il discorso che facevamo prima, sul fatto del ratolamento e delle movenze che vogliamo avere con il nostro personaggio in modo da renderlo il più veloce possibile sia nelle schivate che nei roll. Andiamo ora a vedere per bene il funzionamento di questa build contro qualche avversario, partendo dal nemico qui di fronte con questo martellone e andando ad utilizzare l'ondata di fuoco coccente. Come vedete gliela spariamo proprio sotto i piedi e camminandoci dentro, lui raggiunge l'effetto di ustione in men che non si dica, andando ad attivare poi un attimo prima che ci attacchi per vorre di spirito, guardate qua che recupero di spirito abbiamo avuto quando andiamo ad infliggergli il colpo critico. Praticamente avendo deviato il suo attacco e contrattaccandolo con il colpo critico siamo passati dalla vera 4 linee in negativo di spirito a riempirle totalmente al massimo. Vediamo ora il cuginetto di quello che abbiamo affrontato poco fa, che anch'esso andremo ad affrontare nella stessa medesima maniera, ovvero utilizzando ondata di fuoco coccente e infliggendogli immediatamente ustione grazie a un solo incantesimo e poi andandolo a colpire con un colpo critico, lo scartavetriamo dalla faccia della terra. Vediamo invece come funziona contro questo uccello che sembra essere più resistente al fuoco, infatti sono andato a scagliargli una palla di fuoco esplosiva che non lo ha immediatamente ustionato, quindi andiamo ad utilizzare anche l'ondata di fuoco coccente per infliggergli l'effetto di stato. Questo è un nemico che è un po' più resistente al fattore fuoco e infatti vediamo che abbiamo un po' più di difficoltà nonostante questo, andiamo a ustionarlo, possiamo giocarcela anche un po' più tranquilli, un po' più lontani dato che andiamo comunque a infliggergli danno nel tempo senza troppi problemi. Qui poi sta un po' anche all'abilità del giocatore nello schivare al momento giusto gli attacchi che ci vengono inflitti, anche se io ora vi sto facendo solo vedere, non lo sto mettendo alle strette per farvi vedere quanto veramente può funzionare questa build e il danno che già fa nonostante non sia una build completa come dicevamo all'inizio perché andando avanti nel gioco avremo a disposizione molte più modifiche quante ne abbiamo al livello a cui sono arrivato io, ovvero 50-55 e quindi poter in futuro ottimizzare proprio meglio la build. Ora vediamo contro questo Duyan come funzionano invece le arti marziali in combo con l'arma fiamma. Visto che ne abbiamo parlato all'inizio quando vi ho spiegato che armi utilizzare, ora andiamo ad applicare anche qui l'effetto di stato ustione ma in questo caso non utilizzando gli incantesimi per lanciare le fiamme bensì utilizzando la nostra arma e andando colpire con le arti marziali il nostro avversario infliggendogli oltre che ustione danni da spirito in modo da poterci garantire un colpo critico che come vedete lo mette a KO piuttosto velocemente. Ora invece andiamo ad affrontare questo allegatore che è debole verso il fuoco infatti come vedete gli ho lanciato l'ondata di fuoco coccente e in men che non si dica lui ha iniziato a bruciare a prender danno e lo stiamo cuocendo a poco lento infatti come vedete senza pressarlo e senza attaccarlo quasi lo sconfiggiamo con una nonchalance disarmante. Quindi ragazzi questa era la mia build spero che vi piaccia spero che la utilizzerete e fatemi sapere naturalmente se vi sarà utile io vi ricordo solo di iscrivervi al canale se volete vedere ulteriori build o siete interessati a qualcosa di particolare su Wulong vi saluto vi ringrazio vi chiedo solo di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto e ci vediamo la prossima volta ciao ciao